Vi faccio vedere il ciondolo che ho realizzato uguale agli orecchini lilla, è molto semplice ma è carinissimo e siccome adoro molto questo colore, ho deciso di realizzarlo sia con io le chiamo le gocce, le drop che ho preso da Cristalline, ma sia con i cristalli B con uno svaroschi, ho alternato una goccia e uno svaroschi, devo solo mettere la chiusura, ho messo un nastrino d'organza perché avevo finito tutte le catene e me le sono finite tocca che le ricompro, io ho fatto questo completo praticamente per farvi perché volevo qualcosa di lilla, spero vi piace, a me piace tantissimo perché anche se è semplice fa la sua figura